Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più l'ami. Lo spettacolo di stasera si intitola Palmina Amara Terra Mia ed è un monologo scritto e diretto da Giovanni Gentile che tratta la vicenda di Palmina Martinelli, una ragazza che nel 1981 aveva 14 anni, adesso ne avrebbe 50, che è stata arsa viva a casa sua perché si è ribellata alla prostituzione, quindi stasera parliamo di mafia pugliese. Io interpreto in realtà un ruolo che mi è stato dato da Giovanni Gentile che è l'autore e il regista, sono io in prima persona che parlo della vicenda e di tutto ciò che è accaduto in quell'epoca e di tutto ciò che ancora non accade adesso nel 2017. Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più l'ami.